Alle 10 e 30 di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 31 strada del Trentin a Cavaillon Veronese per la fuoriuscita autonoma di una vettura. Per cause ancora sconosciute una 79enne che era alla guida ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi su un fianco in un vigneto. I vigili del fuoco partiti dal distaccamento di Bardolino con un mezzo e cinque uomini hanno estratto la donna che risultava incastrata all'interno del mezzo prestandole le prime cure in attesa dell'arrivo del personale sanitario che giunto sul posto ha provveduto alla prosegua delle cure al trasferimento della stessa in ospedale. L'intervento si è concluso intorno alle 11 e 15 con la messa in sicurezza del veicolo sul posto anche personale della polizia di stato per i rilievi del caso.